La Compagnia Junior del Balletto di Verona, diretta da Eriberto Verardi e Anna Getzman, porta al Teatro Sociale di Mantova lo schiaccianoci di Tchaikovsky. Solisti del Teatro San Carlo di Napoli, Claudia De Antonio e Salvatore Manzo. Venerdì 27 gennaio alle 21. Biglietti in vendita presso il teatro e su teatrosocialemantova.it Banca Monte dei Paschi di Siena sostiene la sezione danza della stagione teatrale 2016-2017.